Sto riprendendo? Buongiorno gente, come rilevo? Ho fame, ho scritto a pizzeria, non aiuta! Puoi mettere questi piccoli spasmi, eh, mi raccomando! Ehi, gira, gira! Siamo? Sì! Oh, che pace da te vincere! Ti amo? No, no! 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 Oh, 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 went to heaven Oh, 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 went to heaven Oh, 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 oh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti